Buon poveriggio, siamo sempre al Roma e Fidelity, oggi è sabato 27 novembre della prima giornata del Roma e Fidelity e sono in compagnia di Alan Bonfadini, la nuova generazione di Bonfadini ovvero alias tecnostyle.ifo che è il distributore dei prodotti a marchio Löwe che sono tornati prepotentemente anche sul mercato italiano con, parliamo ovviamente di televisori e anche prodotti audio di qualità elevata, design molto curato ed è un'ottima notizia anche perché non si vedeva un'azienda di tv, soprattutto di fascia alta, finalmente in una fiera di settore c'è una gravissima mancanza proprio di questo genere di prodotto che invece è importante nell'economia di un sistema, un theater Sì, sono d'accordo, assolutamente, grazie Löwe si è rilanciata prepotentemente grazie a un personaggio noto nel settore che è riuscito ad acquisire questo brand e a rilanciarlo non solo in Germania ma in tutto il mondo Dico mondo perché ovviamente l'Europa oggi è ancora il mercato fondamentale però ha già iniziato negli Stati Uniti e anche nel Middle East Nuova generazione, grazie per il compito, non mi sento proprio da una nuova generazione Decidamente da una nuova generazione, come anche una linfa di nuova generazione anche per l'Epe che negli ultimi anni prima della crisi aveva comunque per esempio solo tv con tecnologia LCD invece con l'ingresso della nuova dirigenza è stato proprio questo, è spazzato via tutta la vecchia tecnologia Ci sono pannelli per esempio OLED selezionati di vecchia generazione, ricordiamolo che adesso è un vantaggio rispetto ai nuovi OLED per esempio perché hanno pannelli con ottima uniformità, avete un'elettronica basata per esempio sulla piattaforma iSense dove ovviamente c'è anche l'elettronica superiore, il sistema superiore operativo di leve che abbiamo già potuto dare un'occhiata nelle ore precedenti e sono prodotti di ottima qualità con un design pazzesco e con un sottosistema audio altrettanto interessante Sì, è una caratteristica di leve dove l'audio è un carattere fondamentale del prodotto finito Sicuramente il discorso nuova generazione più che a me dovrebbe essere associato ai nuovi tv perché una lacuna enorme oltre al discorso del pannello di leve era il fatto che non aveva il video on demand Oggi è assolutamente fondamentale, io per primo penso di non guardare più nel digitale terrestre né altro se non le piattaforme più comuni e più utilizzate Quindi sì, è stato un passo da gigante in solo un anno perché obiettivamente la nuova leve è ripartita a inizio del 2020 Quindi nonostante la pandemia, nonostante tutti i problemi oggi abbiamo un line up di tre linee con tutto questo nuovo chassis, questo nuovo hardware che permette ovviamente l'utilizzo del nuovo software Certo, poi ricordiamo che avete OLED, avete anche prodotti LCD, anche di scialta, anche piccoli, prodotti piccoli magari non c'è spazio all'interno dell'ambiente casalinco di prodotti di dimensioni generose avete presentato anche un OLED da 77 pollici, dovrebbe arrivare nell'imitato futuro avete appunto tre serie interessanti che sono in esposizione qui al Roma e Fidelity fino a domani sera che però saranno poi in esposizione anche a Roma in questo caso perché so che c'è una partnership più importante con un punto vendita romano che è il gruppo Garman e con tanti altri punti vendita ovviamente sul territorio italiano però parlo di gruppo Garman perché è anche il nostro partner in cui spesso facciamo eventi e che quindi ci vedrà molto presto fare magari una cosa insieme proprio attorno all'eve l'eve ricordiamo anche i prodotti audio quindi non solo l'audio è molto curato all'interno del tv parlo per esempio della serie Build Eye che ha anche una soundbar dedicata che può essere integrata per esempio nel tv però anche per esempio soundbar stand alone smart speaker e tanto altro esatto in pochi secondi hai fatto una precisa panoramica del portafoglio l'eve e innanzitutto la cura sui piccoli polliciaggi oggi probabilmente siamo non dico gli unici ma tra i pochissimi a dare attenzione al 32 e al 43 ovviamente il video era la priorità quindi siamo partiti con il discorso video e adesso stanno arrivando nonostante tutti i problemi sempre della pandemia i prodotti audio tra cui i multiroom che hanno delle caratteristiche impressionanti infatti parlavamo anche con il gruppo Garman di fare una piccola demo perché hanno delle caratteristiche veramente uniche da provare certo assolutamente oltre alla smart speaker a proposito di tv piccoli per esempio avete anche modelli da 48 pollici OLED esatto qualità top in dimensioni contenute e ripeto è presto diciamo ci sarà su AV Magazine un approfondimento proprio sulla serie Build Eye che è in dimostrazione qui sotto al Roma Fidelity e tante altre cose nuove con l'eve e ripeto io pongo l'accento sul fatto che siete azienda che produce tv in questo caso è distribuita di tv all'interno di una fiera di settore e all'interno dei punti vendita specializzati che è una cosa che non c'era da tanto tempo sì sì è stata è stato molto importante avviare questa distribuzione una distribuzione molto selezionata e selettiva in realtà il prodotto stesso è è molto ricercato per ragioni insomma quelle che abbiamo detto poco fa molto a cura nei particolari nell'audio che è fondamentale insomma il materiale, il design che non è così comune da trovare nel prodotto diciamo di grande consumo sicuramente benissimo grazie Alan grazie a te li vediamo sotto abbiamo ancora una giornata e mezza davanti di Roma Fidelity e grazie ancora per il tuo tempo grazie grazie davvero grazie a te grazie a te